31 morti annegati in mare, soprattutto bambini, nel maxi-naufragio avvenuto a largo del porto di Zuare, Libia. La notizia arriva proprio dagli operatori impegnati nelle operazioni di recupero attraverso un tweet di Chris Catrambone dell'ONG MOAS e fondatore di Migrant Offshore Aid Station. Un barcone con a bordo circa 300 migranti si è piegato su un fianco e oltre 200 persone sarebbero finite in acqua. Molte di loro sono state tratte in salvo dalla nave Fiorillo della Guardia Costiera e dai marinai di altre navi sul posto. Per la ricerca di altri superstiti, la Centrale Operativa di Roma della Guardia Costiera ha disposto che altre unità e altri mezzi navali raggiungano al più presto l'area del naufragio. Per via delle condizioni meteofavorevoli, su tutto il Mediterraneo si registra un intenso traffico in imbarcazioni che stanno raggiungendo l'Italia. Non è ancora chiaro dove siano dirette le 14 navi della Guardia Costiera impegnate a portare soccorso ai migranti in mare. In questi giorni vicini al G7, la Sicilia è infatti off-limits. Già la scorsa settimana erano state comunicate le limitazioni degli sbarchi per motivi di sicurezza. Dal 18 maggio nel porto di Messina e da oggi in tutti gli altri porti fino a domenica. Situazione che in questo caso obbliga le navi ad attraccare nei porti delle regioni vicine e allungare così il percorso di navigazione. Grazie.